due, siamo qui a lui dietro non c'è si, si, mamma mia ci sono un po' stanno, ma quando stanno qui? noi stiamo con la coppa, la coppa stiamo noi la coppa, mamma mia i cittadini hanno un fiatone mamma mia ma voi vestite? così ma andiamoci, andiamo a prendere la stessa coppia siamo noi e i lama abbiamo fatto la fine degli animali si, questi ci sputtano pure in faccia prima non fa la stessa fine no, andiamoci andiamoci, andiamoci, andiamoci hai capito? no, no, non dici si, ho capito, poi non hai capito niente perchè non mi ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito capito o no? si, mi ricordo buono c'è una stradina interna e la strada che faccia è canna voglio usare una campanella? non ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito ma per caso con noi è tosto, qua non ho capito mi ricordo bene, ci sei volato l'unica cosa è prendere questa strada qua e vedere si porta quella da parte non ho capito non ho capito non ho capito ma non ho capito ma non ho capito ma non ho capito ma perchè andiamo a posto qua direttamente? rimaniamo qua? rimaniamo qua? qua dove sono andato? ah c'hai sistemato tutte le cose? allora siamo pronti? siamo pronti? senti? secondo me stiamo in orario in orario e cose che volevo fare? vorremmo provare qualcosa? e tanto comunque non ho aspettato che si fa la notte tanta gente viene comunque venga lui, che abbiamo fatto? bella, 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 bella è buono però mi piace mangiare mi senti? ti senti? ti senti pure dove? sono messa tutta a terra ma la gente l'anno passato ma la gente ha giusto? no ma la gente la gente tra poco arriva perchè sennò no eh ma il dato ti ricordo buono è il 26 è il 26 è il 26 oggi è il 26 26 26 vada 26 uai non ti ho capito ne ho capito scusa no ma oggi? ma oggi è 21 oggi è 21 ma come si? ma vogliamo domandare signora prima cosa signora eh domandammi a quella prima una poca prima una poca prima una poca prima una poca no no lascia così lascia così eh già signora 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 non fa il pruseppe ma guarda il pruseppe io dovevo oggi non si fa il pruseppe come si fa? il pruseppe si fa il pruseppe il pruseppe il pruseppe il pruseppe e allora allora c'è una maestra sicura non lo fa no va buona arrivederci signora arrivederci 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 maestro però mamma mia calma tu fatti la ciao ciao Ma che bella giornata, oh la la, sorridi che ti passa, oh lele